Nei prossimi giorni chiederemo al sindaco di Battipaglia e al presidente della provincia e anche al prefetto di Salerno di ricevere una delegazione del comitato prima Battipaglia. Viene ribadito in una nota stampa ed interesseremo anche gli ordini di stampa nazionale perché non possiamo consentire ad un privato di creare una sorgente di pericolo, ovvero un distributore di carburanti, prospicente ad una scuola che con circa 1200 studenti è la più popolata della provincia di Salerno. E non possiamo nemmeno consentire fonti di inquinamento al centro della nostra città, laddove da circa 30 anni in tutte le zone d'Italia gli impianti di carburante vengono delocalizzati fuori dal perimetro urbano. Continuano nella nota i responsabili di prima Battipaglia ribadendo che da fonti ufficiose e da notizie stampa hanno appreso che la società Cascone SRL ha per la quarta volta cambiato il progetto pur di insediare un impianto di carburante in adiacenza del liceo scientifico Enrico Medi. Il comitato prima Battipaglia insieme alle forze politiche di opposizione, PD, Civicamente, Liberi e Solidali, 5 Stelle ed Indipendenti, Legambiente ed altre associazioni del territorio si battono ormai da due anni per fermare questo scempio. Nel frattempo bisognerà attendere ancora per sapere se davvero a Battipaglia verrà realizzato il farmigerato distributore di carburanti. Grazie a tutti.